Ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi oggi faccio un video extra perché uscirà di mercoledì e sapete che i miei video escono di lunedì e di venerdì alle 19.30 ma i miei video extra escono di mercoledì, quindi lunedì e venerdì alle 19.30 oggi farò un video extra perché vi avevo detto che ero insomma dedicato in un video semplicemente ai suoni del mio libro e per chi ha lo sapesse ho scritto un libro sull'smr e ho deciso di farlo in questo video perché trovo che questo sia un regalo perfetto per Natale o per un compleanno ma in realtà io so che adesso c'è molta pernessia per i regali di Natale non si sa mai cosa regalare perché tutti hanno tutto, perché tutto sembra inutile e secondo me allora in generale regalerò un libro è una delle cose più intelligenti da fare perché regali un contenuto, regali delle parole, regali... e in un qualche modo comunque sai, ti dimostrano di conoscere la cosa interessata quella persona in particolare il mio libro perché è speciale in tanto perché è perfetto anche come autoregale ovviamente però so che ricevo molti dati in cui molti mi dicono chiaro, finalmente sono riuscita a farmelo come autoregale, sono troppo felice, mi piace troppo io sono sempre contentissimo perché è perfetto come regalo intanto perché lo trovate sia su Amazon sia in libreria quindi non so qual va a dire su Amazon se il pacco arriverebbe prima di Natale quando uscirà questo video sarà mercoledì 18 quindi dovrebbe ancora farcela ma caso avete paura che non arrivi il pacco in libreria è disponibile quindi potete prenderlo lì sapete già dove andare a trovarlo inoltre molte librerie fanno anche i pacchi regalo quindi risparmiate anche sulla confezione e farete un pacco molto bello poi perché è così speciale? perché appunto dimostrerete alla persona di conoscerli di sapere che magari sono molto interessati all'argomento questo è un regalo perfetto per il proprio ragazzo, ragazza, amici, amici, figli o anche perché non ho genitori con un modo di dirgli guarda sto provando a farti avvicinare al mio mondo mi piacerebbe che tu scoprissi qualcosa su ciò che guardo per potermi capire un po' di più un messaggio molto bello poi perché non è un libro come tutti gli altri è un libro intanto che parla di un argomento nuovo non ne troverete di simile in libreria solo il mio perché imparerete cose nuove in questo modo tra l'altro sosterrete anche lsms un consiglio quando volete prendere questo libro in libreria molti diciamo commessi o librari insomma librai non sanno dove metterlo non sanno se metterlo fra la medicina fra i youtuber fra il lifestyle quindi anche per questo che è importante che magari diciate attraverso il vostro acquisto guarda questo commento interessante questo è un libro proprio dato segno importante alla comunità che stiamo crescendo e soprattutto che la stiamo apprendendo seriamente e questo fenomeno si sta ampliando che non è solo una cosa un caso così che sparirà ma gli stiamo dando la giusta importanza e questo messaggio è un messaggio che vorrei tanto tanto che si capisse per me è per questo in questo libro molto importante perché da un segnale di crescita ma anche in Italia di questo fenomeno che ho molte volte preso in giro quindi si è anche una questo proprio è un dare la propria dire la propria dirlo con la propria voce io ci sono io sono interessata e questo andrà avanti comunque vi volevo anche dire che un'altra cosa carina per cui acquistare il mio libro voglio regalarlo per Natale che se vi manderete insomma la foto del libro eccetera e il nome della persona a cui lo volete regalare basta mandarmi un messaggio su Instagram e io manderò un piccolo audio personalizzato con gli acquari di Natale giusto come tipo un bigliettino personalizzato e questa cosa vale appunto fino a Natale per tutti gli acquisti del libro che saranno finalizzati ad essere un regalo che saranno pensati per essere un regalo di Natale a qualcuno a voi cari o anche un autoregalo perchè non e mi seguirà su Instagram in cui mi trovate come chiara.smr basta appunto mandare un messaggio lì per richiedermi questo bigliettino di auguri chi mi segue mi segue già su Instagram mi lo assaggiate questa diciamo iniziativa per chi non mi segue mi state perdendo tutto ok ok quindi adesso ci vediamo un po' 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 una cosa voglio anche ringraziare tutte le persone che hanno postato una storia con il mio libro hanno dedicato un video al mio libro ne sono veramente grata e i video che trovo video recensione così vi lascio tutti in descrizione così potete anche andarle a vedere ci sono anche delle parti interattive in questo libro e una di queste è scritta qui un po' 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 Perdonate ragazzi se sentite un po' di casino. Io non so cosa stia succedendo su, non lo so, non me lo spiega. Tra l'altro è diverso dai libri normali. Quattro è quadrato diciamo quasi e dentro è fatto così esteticamente secondo me è molto 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 bello. Perdonate ragazzi. Ti, uno, su, su, su. Grazie. 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 in effetti, nelle promesse scritte, nelle primi tipiche di lei e le vorrei chiedere un'elettrica delle lettere di quella e la torre di vaccina per l'uomo o che potremmo ricordare i telefoni quando non ci avete parlato da tutto ma ci sono molte esempi con il tuo nome e subito conoscenze delle persone se ti mette nel fatto me ne sono qualcuno questo capitolo che sto leggendo è, secondo me, in questo capitolo, in due dettagli semplici come in alcuni film o libri e ci sono proprio dei momenti ASMR è molto, non so è molto suggestivo come capitolo comunque poi, poi, poi chiedere a me dell'ordine che non c'è farmaciasi e che non è un'ordine di stessa per controllare i muri o contenuti sulle microfonie che è in seguito di pipa con il mio video e il mio video è un video che si mette in seguito sui video in un aggiunto in seguito vi sono venuti in totale e non avviste più di 100 video di volte in seguito in seguito si possono trovare milioni di video in cui i giovani ragazzi sull'ordine i microfoni fanno schiuccare la lingua e la picchietta una copiletta sui registratori con il tentativo di provocare anche il cuore dei britti lungo la faccia nel senso di promuovere l'effetto l'autonomia per i migliori risposta in breve smn una nuova risposta all'oltre l'info di una gritta è chiaro nei primi gradi cico di smn l'info di risposta di 100.000 iscritti al suo canale rispiva questo fenomeno perchè è anche stato il web l'attenzione di milioni di persone nel farlo raccomando si stesse a farlo per giustare i video e fare un canale di youtube e disporne le informazioni che fanno lasciando allora ora penso sia proprio giunta l'ora di abbassare le luci e augurare 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 una buona 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 notte pasticcini buonanotte pasticcini un bacione che rispira